Allora, non fiatate, eh? Ma col vostro migliore amico, quello che avete messo KO, con lui avete fiatato! E come se avete fiatato? Confessate! E va bene, filate via! Ma non fatevi più beccare senza questi! Alido leggero e vita più sana? Pro cane e pro gatto. Ingredienti scelti, digeribili, gustosi. Giuntini, ricette italiane. Tutte da mordere. Abbiamo deciso di invitare un ospite, insomma, abbiamo deciso di fare una panoramica anche più veloce per dare più spazio agli amici del calcio amatoriale. Accanto a me c'è comunque, come sempre, Alessio Romanelli. Buonasera a tutti. Allora, Alessio, possiamo subito cominciare dalla Lega Pro Girone A, ventisettesima giornata, perché è arrivata una sconfitta difficile da digerire per l'Arezzo, che ha perso 1-0 sul campo dell'ex Fadalino di Coda Pordenone. Gol di Maracchi al 55esimo, che tra l'altro ha interrotto l'imbattibilità della formazione Amaranto dopo 235 minuti. Possiamo dire che l'Arezzo non è riuscito a sfruttare la superiorità numerica per quasi tutta la partita. Ha disputato forse una delle prestazioni peggiore di questo campionato ed è rimasto fermo a quota 36 punti, più 5 su Cremonese e Gianni Erminio. Se la classifica resta invariata, però la prestazione Alessio è stata deludente. Sì, gli Amaranto cadono dopo quelle tre vittorie consecutive, che avevano fatto molto bene sperare per il proseguo del campionato. È arrivata anche l'undicesima partita senza golle. Forse questo è un dato che tutte le volte viene fuori, però sono i numeri quelli che contano alla fine. È forse mancato in queste partite qua, un po' chiusi, un po' difficili, lo spunto che poteva dare un giocatore come Erpen. È la seconda sconfitta esterna consecutiva, il settimo K stagionale lontano dal comunale. Come hai detto tu, l'Arezzo non ha saputo sfruttare questa superiorità numerica che è in pratica per tutta la partita, perché Ferroni, se non sbaglio, è stato espulso. Ferrani. Ferrani è stato espulso prima del secondo minuto di gioco. Poi dopo pochi minuti si è anche fatto male Maccan, che è uno dei migliori pezzi del Pordenone, quindi un'occasione non sfruttata da Amaranto. Come hai detto anche Capuano, forse l'approccio mentale ha deluso un po' perché il Pordenone aveva più fame e questo l'Arezzo non se lo può permettere ancora. Sì, per come ci aveva abituato no, perché l'Arezzo ci ha sempre fatto vedere che faceva dell'agonismo, della fame e la sua dote migliore. Questa volta, come ha ammesso lo stesso Capuano, il Pordenone ha avuto più fame dell'Arezzo. Settimana intensa per quanto riguarda gli Amaranto, che torneranno in campo mercoledì 4 marzo alle ore 15 sul campo del Real Venezia, mentre domenica 8 marzo alle ore 16 in casa contro una delle capoliste di questo campionato, il Pavia. Quindi servirà subito una riscossa, anche se non sono partite semplici. Sì, mercoledì a Venezia servirà subito una riscossa, come hai detto tu, però non sarà facile perché il Venezia ha 37 punti e soprattutto viene da una gran bella vittoria nel campo del Monza. Situazione invece invariata in vetta della classifica, con tre squadre appaiate a quota 53 punti. Pavia e Alessandra sono confermati dal comando battendo in casa Mantove Cremonese. Il Novara ha tenuto il passo, espugnando il campo del Bassano quarto in classifica e distanziandolo ulteriormente. I Veneti sono ora a meno 7. In chiave salvezza da sottolineare lo 0-0 tra Torres e Gianna Erminio e successi di Renate Lumezzane contro Sud Tirol e Real Vicenza. Mercoledì in campo anche Pavia Lumezzane, Alessandra Torres e Como Novara, tra le gare più interessanti. Passiamo ora alla Serie D, 24esima giornata perché sono arrivati 4 punti per le nostre due formazioni. Il pareggio casalingo della Vivi Alto Tevere e Sansepolcro contro il Foligno, un 2-2 ricco di gol, insomma di spettacolo, con Vegna Duzzo che ha portato avanti gli ospiti nel primo tempo, poi nella ripresa i gol di Braccalenti e Arcaleni e a 45 secondi dal termine il pari di Coresi. Insomma un pari un po' beffa, però la prestazione c'è stata e credo che sia un risultato positivo. Bene invece il Trestina che ha battuto 3-1 in casa, una squadra forte come il Gualdo Casa Castalda, rimontando il gol iniziale di Bussi grazie alle punizioni di Alessio Ceccagnoli e Morvidoni e al sigillo finale di Mancini. Ora la salvezza resta difficile, ma non è più un miraggio. Partiamo Alessio dalla Vivi Alto Tevere e Sansepolcro perché quando prendi gol nel finale un po' di rammarico resta, però questo è un buon punto. Ma sicuramente un po' di rammarico ci sarà perché era praticamente finita la partita ed era riuscita a rimontare il risultato perché Sansepolcro era andato sotto, poi con Braccalenti ancora una volta decisivo, tra l'altro il giovane Biturgenze aveva pareggiato, poi con Arcaleni era andato in vantaggio. Comunque il quarto pareggio di fila per gli uomini di mezzanotti è il nono risultato utile e il quarto pareggio stagionale interno. Ho sentito anche le parole proprio del mister che si è congratulato ancora con questi ragazzi che lo sorprendono partita dopo partita e però ho anche ammesso che cominciano a mancare e come non... Non sottolinearlo insomma perché sono assenze importanti. Certo, perché Gorini e Sussì sono i due migliori giocatori possiamo dirlo di questo Sansepolcro e quindi le loro assenze si possono far sentire. Giusto comunque condividere quelli che sono i complimenti di mezzanotti perché il Sansepolcro sta facendo molto insomma l'assenza di un giocatore come Sussì non può che non farsi sentire. Insomma quindi complimenti davvero al Sansepolcro che tra l'altro ha collezionato l'undicesimo pareggio stagionale primato condiviso con il Villa Biagio l'ultima vittoria del 25 gennaio sul campo del Rieti però l'ultimo K.O. risale addirittura il 14 dicembre sul campo della capolista Siena. Terzo posto confermato a quota 41 punti con la terza difesa del campionato. Passiamo ora alla Trestina perché questa è stata davvero una grande vittoria in questo anticipo il Casino è tornato roccaforte inespugnabile il quarto risultato utile consecutivo e soprattutto la seconda vittoria interna di fila per questa squadra che non molla davvero. Sì sono ben 10 punti quelli raccolti dal Trestina in queste ultime quattro gare dopo un primo tempo nel quale non c'era stato un gran Trestina era andata sotto la formazione di Mister Luzzi poi però era riuscita a rimediare al vantaggio ospite grazie a una gran bella punizione di Alessio Ceccagnoli poi nella ripresa però si è visto veramente un gran bel Trestina che ha cambiato marcia ed è andato prima in vantaggio con la punizione trasformata da Vorvidoni poi c'è stata anche l'espulsione di un giocatore ospite che ha favorito ancora di più i bianconeri Tifernati che sono andati a chiudere la partita poi con Mancini ho sentito anche le parole di Mister Luzzi naturalmente ha ammesso di essere molto molto contento per questa squadra e che la vittoria di domenica è stata l'ennesima dimostrazione che questa squadra non molla è la quarta vittoria in stagione il Trestina ha agganciato a quota 17 il Villabiagio quindi è il terzo ultimo posto è giusto a questo punto fare anche un po' di chiarezza per quello che riguarda il regolamento in caso dei play out per quello che riguarda la Serie D perché ovviamente come tutti sappiamo 18esima e 18esima squadra classificate retrocedono direttamente in eccellenza mentre le altre dal 13esimo al 16esimo posto disputano i play out questo però soltanto se tra la 13esima e la 16esima ci sono 8 punti o meno di 8 punti di distacco con 8 punti o più di distacco non ci sono i play out stessa cosa anche per quello che riguarda il distacco tra il 14esimo e il 15esimo posto questo per dire che il Trestina adesso ha 17 punti il Gavorrano ne ha 31 quindi in questo caso i punti di distanza sono 14 e il terzo e ultimo posto non garantirebbe la disputa dei play out fondamentale quindi agguantare almeno la quarta e ultima piazza occupata oggi dal Sandonato che di punti ne ha 22 insomma resta difficile però questa squadra da qui alla fine di punti ne può fare perché ora ha veramente ingranato sì e diciamo che quando cominciano ad arrivare i risultati torna anche l'entusiasmo che nel calcio è una delle cose fondamentali perché quando si ritrova un po' di morale poi le cose vengono molto meglio anche in campo situazione invariata anche in questo campionato in testa alla classifica il Sena ha infatti sconfitto 1-0 in casa le pianezze grazie al rigore di Minincleri è salito a quota 49 ed ha mantenuto tre lunghezze di margine sul Poggi Bonzi che con identico punteggio ha violato il campo del Saldonato gol di Foderaro il Ponzacca ha battuto a domicilio il Bastia il Rieti ha perso in casa contro il Gavorrano il San Giovanni Valdarno ha compiuto l'impresa di giornata vincendo sul campo della Massese nel prossimo turno proprio il San Giovanni sarà avversario del San Sepolcro al Virgilio Fedini di San Giovanni Valdarno mentre il Letrestina sarà di scena sul campo delle Poggi Bonzi secondo in classifica in programma anche Ponzacco Siena e Pianese Rieti una velocissima panoramica per quello che riguarda l'eccellenza Umbra campionato fermo si è giocato soltanto il recupero tra Massa Martana e Narnese gara che si è conclusa sul punteggio di 0-0 il Città di Castello resta in testa con 50 punti più 6 rispetto al Todi più 11 rispetto alla Subasio nel prossimo turno Tifernati di scena sul campo della Narnese quarta in classifica a quota 36 possiamo dire che prima di questa partita però il Città di Castello sarà atteso da un altro importante impegno la gara di andata dei quarti di finale della fase nazionale della Coppa Italia di eccellenza appuntamento mercoledì 4 marzo alle ore 15 tra le Muramiche e delle Bernicchi contro il San Gimignano squadra che conosciamo perché disputa l'eccellenza toscana sarà un altro grande appuntamento per questo Città di Castello che insomma vuole vincere tutto Sì è un altro grande appuntamento come hai detto tu è una gara importante perché a questo punto il Città di Castello penso voglio andare avanti anche qui e perché non lo dovrebbe fare dato che sta disputando veramente una stagione strepitosa sia in campionato che a questo punto anche in Coppa e gli auguriamo un grosso in bocca al lupo Assolutamente mi associo a questo ovviamente massimo rispetto per tutti San Gimignano squadra tosta sicuramente ma il Città di Castello ha i mezzi per poter passare anche questo turno ed accedere alle semifinali nel prossimo turno oltre a Narnese Città di Castello anche Nocera Umbratodi e Subasio Sanzisto eccellenza toscana perché invece è andata male alla Baldaccio Bruni Anghiari che ha perso 2 a 1 in casa con il lanciotto Campi il vantaggio firmato da Quadroni dodicesimo centro stagionale per lui all'ottavo minuto aveva illuso la formazione bianco-verde che però ha subito il pari di Manganiello in chiusura di primo tempo e poi il definitivo 2 a 1 al cinquantasettesimo che ha firmato Pagnotta per la Baldaccio un'espulsione quella di giorni mentre sono stati due i cartellini rossi per la formazione ospite Assar e Bechini è il secondo cappò consecutivo per la formazione di Simone Marmorini che ha raccolto soltanto due punti nelle ultime quattro giornate soprattutto adesso c'è il quarto posto in classifica quota 40 meno 6 dal Monte Catini che ha vinto 1 a 0 sul campo della Castelnovese e meno 2 dal tandem formato da Porta Romana e Rignanese con i primi che hanno sconfitto i secondi in questo scontro diretto Alessio te lo domando a te è la fine un po' di questo sogno oppure ci sono ancora speranze? Ma dispiace perché la Baldaccio ci aveva abituato veramente a fare grandi cose in questo campionato e invece questo periodo negativo come hai detto tu il dato che fa più riflettere sono i due punti i soli due punti raccolti nelle ultime quattro gare questo periodo negativo sta un po' macchiando quanto di buono aveva fatto fin qui la squadra di Mister Marmorini però i mezzi ci sono i giocatori ci sono e quindi secondo me ci sono tutti i presupposti per rimboccarsi le maniche e ripartire sono pienamente d'accordo anche perché la Baldaccio nel primo tempo ha sicuramente giocato bene poi al primo errore ha sicuramente perso un po' di tranquillità cosa che purtroppo nel calcio capita quando le cose girano male poi continuano a girare male e forse anche peggio ogni errore rischia di pesare dobbiamo anche dire che c'erano tre assenze importanti per squalifiche oltre che quella di Redi insomma infortunato e soprattutto la squalifica di Rosati ben tre giornate è parsa sicuramente eccessiva per quello che aveva fatto il forte giocatore della Baldaccio sul campo del Quarrata comunque obiettivo come poi ha dichiarato il direttore sportivo Alessandro Bruni nelle interviste che andremo ad ascoltare rimboccarsi le maniche rimanere uniti perché la Baldaccio comunque vada a questo campionato ha fatto grandi cose e non vuole arrendersi allora le interviste con Alessandro Bruni e con Andrea Bellini tecnico del Lanciotto Campi Alessandro Bruni direttore sportivo della Baldaccio una sconfitta pesante difficile da digerire in casa contro il Lanciotto qual è lo stato d'animo in questo momento? Ma sai al novantesimo non è facile ad essere equilibrati dopo secondo me aver fatto un buon primo tempo dove non siamo riusciti a chiudere la partita ed è bastato qualche incertezza per rimettere in ballo il risultato abbiamo finito il primo tempo uno a uno secondo me meritavamo ampiamente noi di essere in vantaggio e poi al secondo tempo credo che gli episodi li hai visti anche te c'è poco da dire secondo me a livello impegno credo che i ragazzi si sono dati da fare fino al novantesimo ci dobbiamo rimboccare le maniche lasciarsi alle spalle in questo periodo no possiamo dire direttore che quando le cose girano male poi tutto le fa andare anche peggio? sì io penso di sì perché chiaramente al minimo errore siamo puniti il risultato del campo tanto è quello che conta sicuramente in queste ultime parite la badaccia dovrà cercare di riprendere il bandolo della matassa forse senza guardare più agli altri io l'avevo detto ieri mattina avevo parlato con i ragazzi di lasciarsi alle spalle il campionato fino adesso però chiaramente sia in ambiente esterno perché chiaramente abbiamo dentro di noi assaporato la voglia di fare un bel campionato quindi ce lo sentiamo sfuggire di mano e questo non è facile rifare quadrato intorno ai ragazzi e sulla testa dei ragazzi Andrea Bellini mister del lanciotto campi per commentare questa vittoria sicuramente bella sul campo di una delle squadre protagoniste di questo campionato e anche importante per la vostra classifica per noi è fondamentale siamo in lotta per cercare di salvarsi evitando i play out per cui avevamo necessariamente bisogno di far punti e ne abbiamo presi tre per cui diventa veramente tre punti pesanti contro una grande squadra è stata veramente una battaglia piena di colpi di scena poi alla fine siamo riusciti a portarla in fondo in inferiorità numerica però tutto sommato i ragazzi si sono comportati bene e alla fine non c'è da scanzalizzarsi di questa vittoria penso sia stata anche meritata anche perché era cominciata male per voi eppure ci avete creduto sempre anche quando eravate in svantaggio sì abbiamo preso un gol sull'ennesima palla inattiva è un po' un difetto nostro però infatti devo così ringraziare i ragazzi perché non hanno mai mollato in quel momento potevamo anche sbandare invece ci hanno creduto sempre hanno tenuto il campo e siamo così riusciti a ribaltare la gara e a tenere fino a un fondo per cui i ragazzi oggi sono stati veramente incomeabili e allora sicuramente è dispiaciuto il direttore sportivo Alessandro Bruni un sogno che sta un po' sfuggendo di mano però anche alla Baldaccio come al Città di Castello e come tutte le squadre del nostro territorio insomma un grosso in bocca al lupo per concludere al meglio questa stagione senza preoccuparsi di quello che fanno gli altri ma pensando soltanto ad uscire da questo momento difficile negli ultime dieci giornate sono arrivate soltanto undici punti contro i 26 del Monte Catini e questo è un dato sicuramente che la dice lunga sulla forza della formazione della Valdinievole ma anche sul momento non troppo positivo della Baldaccio che nel prossimo turno sarà di scena sul campo del Foiano per un derby difficile ma che deve rappresentare la giornata della riscossa per quello che riguarda le altre gare Monte Catini Bucinese Rignanese Sestese San Gimignano Porta Romana e Larcianese Figline passiamo ora alla promozione Umbra perché il campionato è stato fermo ma a tenere alta l'attenzione verso questa categoria c'è stata la finale di Coppa che ha visto la Trasimeno prevalere per 2 a 0 sulla Madonna del Latte a decidere il match disputato a Ponte San Giovanni i gol firmati nella ripresa da Vivolo e Giorgini successo nel complesso meritato per quella che è la dominatrice del campionato anche se la squadra di Signorelli ha comunque disputato una prestazione gagliarda e ha tenuto bene il campo quindi non ha portato a casa il trofeo però merita però merita grandi complimenti sì non è stata per niente la vittima sacrificale che in tanti si auspicavano ma anzi non ha fatto per niente vedere quei 20 punti che ci sono di differenza in classifica in campionato e anzi per tutto il primo tempo ha tenuto testa a quella che la squadra che sta dominando il torneo quindi complimenti anche se alla fine è andata male anche in questo caso una rapida occhiata a quello che riguarda il campionato dopo 23 turni al comando della classifica c'è proprio la Trasimeno prima a quota 49 seconda la Pievece a meno 11 terzo il Lama a meno 12 quinto posto con 35 punti per il Reale Pitulum Tiberis e sesto con 34 per la Virtus San Giustino ottavo con 33 per il San Lorenzo Lerchi a quota 32 la San Seconda a quota 29 la Madonna del Latte che quindi è più uno sui play-out mentre la Pietralunghese di Bendini che sarà nostro ospite settimana prossima occupa la penultima piazza a quota 23 punti nel prossimo turno Pietralunghese Lama Marra San Feliciano San Secondo Ponte Valle Sceppi San Lorenzo Lerchi Pievece Real Pitulum Tiberis Virtus San Giustino Corciano mentre per la capolista Trasimeno impegno esterno contro la Vis Casa del Diavolo e passiamo anche qui a una rapida occhiata per quello che riguarda la prima categoria Umbra anche in questo caso campionato fermo dopo 23 turni Noa Fulginium in testa con 45 punti e due lunghezze di margine su Fontanelle Branca e San Terminio 31 punti per il Monte Castelli 30 per il Selcinardi che vivono situazioni di classifica piuttosto tranquille mentre in piena bagarre per evitare i play-out il Montone e il Val di Pierle che sono rispettivamente quintultimo a quota 26 e terzultimo a quota 22 nel prossimo weekend Fontanelle Branca Monte Castelli Montone Val di Pierle e Pianello Selcinardi da seguire anche il big match tra San Terminio e Noa Fulginium e passiamo adesso invece adesso alla prima categoria Toscana una categoria che ci sta riservando davvero grandi soddisfazioni grazie alla Sulpizia che con il quarto centro stagionale di Poggini ha vinto a domicilio con la Fonte Belverde successo pesante e per di più arrivato contro una squadra in salute e su un campo sempre molto difficile è l'ottavo risultato utile consecutivo e la seconda vittoria di fila e soprattutto c'è il terzo posto a quota 44 assieme al Cortona Camuscia che ha perso 2-1 sul campo dell'Alberoro e a meno 2 dalla Talla Bibienese che è seconda in classifica e che ha perso 1-0 nel big match esterno contro la capolista Olympic Sansovino che è 7 punti sopra la squadra di Piave Santo Stefano un'altra conferma un'altra graditissima conferma sì se ce n'era bisogno perché a questo punto trasmissione dopo trasmissione siamo sempre a parlare di una Sulpizia che sta veramente facendo cose grandi grandi è la seconda vittoria consecutiva come hai detto tu l'ottavo risultato utile la quinta vittoria esterna stagionale e dopo questa vittoria diventano addirittura 10 i punti sulla quinta in classifica e la formazione di guerra ha anche raggiunto come hai già accennato tu il Cortona Camuscia al terzo posto a quota 44 punti per Poggini è la quarta rete stagionale ed è anche il 37esimo gol in generale per la Sulpizia che vanta il terzo miglior attacco del torneo ed è anche la quarta miglior difesa quindi tutti i dati che confermano una stagione veramente strepitosa hai fatto bene sottolineare 10 punti di vantaggio rispetto alla zona fuori dai play-out però l'impressione che questa squadra voglia sognare e sperare in qualcosa di più ma perché no a questo punto penso che per i play-off non ci siano particolari problemi facendo tutti gli scongiuri del caso e quindi perché non provare a sognare dobbiamo dire che questo risultato è arrivato anche nonostante l'assenza dell'Omar sicuramente uno dei giocatori più forti di questa squadra nel prossimo turno la Sulpizia giocherà in casa contro lo Stia che ha 28 punti un po' per riscattare la sconfitta patita nelle girone di andata ma perché no anche per approfittare di quello che sarà lo scontro diretto tra Cortona Camuscia e Olympic e Sansovino mentre la Talla Bibienese giocherà contro il Terontola anche in questo caso complimenti davvero alla formazione di guerra a tutti i ragazzi e anche alla società di Pieve Santo Stefano passiamo alla seconda categoria Umbra per un'altra breve panoramica su quello che è il campionato visto che anche in questo caso non si è giocato il calzolaro è saldamente in vetta con 57 punti e più 9 sulle Pontevilla a ridosso della zona playoff Artiglio Pistrino con 32 punti Cerbara che dopo il successo esterno con il Morano grazie alla doppietta di Gennari è salita a quota 31 assieme ai Tigrotti Morra in lotta per evitare i play-out Promano che di punti in a 28 Cosme Spierantonio 27 mentre il San Giustino è penultimo a quota 16 dobbiamo dire che il Cerbara ha quindi giocato il suo recupero ed è tornato alla vittoria dopo due sconfitte consecutive conquistando tra l'altro il secondo successo esterno stagionale nel prossimo turno Monte Acuto Cosmo Spierantonio Promano Calzolaro Ponte Dassi Cerbara Pontevilla San Giustino Ramazzano Artiglio Pistrino Sigillo Promano e Tigrotti Morra Parlesca e ora la seconda categoria toscana per un'altra giornata a due facce insomma perché sorride il Palazzo del Pero che ha vinto 1-0 sul campo del Montecchio piange tra virgolette la Monterchiese che ha perso 5-1 sul campo della quotatissimo Spojano Palazzo del Pero ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva la prima esterna di questa stagione ed è salita a quota a 22 punti partiamo proprio dalla formazione di Mister Parri una delle grandi protagoniste di questo momento eh sì è sempre più in crescita il Palazzo del Pero che ha raccolto bene 13 punti nelle ultime 6 partite la formazione di Mister Parri sta piano piano risalendo questa classifica e ora anche la salvezza senza passare dai play-out non sembra più quel miraggio che era poco tempo fa perché dista soli 6 punti per la Monterchiese invece è la seconda sconfitta consecutiva e il dato più significativo è che in queste due partite la formazione di Mister Pescari ha subito ben 10 reti si tratta per la Monterchiese della 17esima sconfitta stagionale e purtroppo sono solo 4 i punti raccolti nelle ultime 11 giornate 11 K.O. su 12 trasferte insomma il bottino si fa davvero pesante e noi tutte le settimane rinnoviamo il nostro in bocca al lupo alla formazione della Monterchiese sperando che possa arrivare quel pizzico anche di buona sorte e perché no che possa provare a far invertire il trend della formazione di Pescari in testa la classifica sempre il Tegoleto che ha pareggiato 0 a 0 sul campo della Santa Firmina Tegoleto a quota 53 e con due lunghezze sullo Spojano 4 invece rispetto al Montagnano che ha perso 1 a 0 sul campo del Guazzino nel prossimo turno partita importantissima per la Monterchiese in casa con il Leccianciano mentre il Palazzo del Pero giocherà sempre tra le Muramiche contro l'Arezzo Football Academy che occupa il quarto posto da seguire anche Tegoleto Piae Valtoppo e Spojano Santa Firmina e passiamo ora alla terza categoria perché invece questa è stata una giornata ricca di soddisfazioni per le nostre due squadre la Capresana ha infatti vinto grazie alla doppietta del sempre più decisivo Alterini 2 a 0 in casa contro la Fortis Arezzo confermandosi al comando della classifica l'Ercolano ha battuto 4 a 0 tra le Muramiche e la San Giovanni Arezzo e si è portato a meno 1 dai playoff quarta affermazione consecutiva per la formazione di Ricky Del Vecchio tra l'altro il naso di Ricky sta decisamente meglio dopo il brutto infortunio e la terza gara senza gol subiti consecutiva il primo posto con 53 punti prima di sentire la tua opinione Alessio andiamo ad ascoltare le interviste che proprio tu hai realizzato al termine del match con l'allenatore Riccardo Del Vecchio e con l'immancabile Paolo Ghirelli Mister Riccardo Del Vecchio è arrivato a una gran bella vittoria della tua Capresana 2 a 0 contro la Forti Sarezzo una vittoria che consolida il vostro primato Sì è una vittoria importantissima soprattutto perché domenica prossima abbiamo lo sconto diretto col Salutio e ci permette di rimanere a più 7 da loro quindi ci fa andare allo sconto diretto un po' più rilassati tra virgolette ecco Presegui il buonissimo campionato di Alterini che con la sua doppietta ha deciso questo match Sì Alterini ripeto non lo scopro io forse lo conoscevano in pochi tre anni che ha smesso giocava negli amatori ho dovuto rispolverarlo un po' è stata un po' una mia scommessa obiettivamente dove magari ci credevo e non ci credevo invece con i gol e con i numeri sta dando veramente delle ottime risposte Abbiamo visto lo striscione del vecchio Portaci in Europa insomma per l'Europa è un po' presto però questo campionato lo volete portare in fondo Sono due domeniche che ci sto pensando intensamente questa e domenica scorsa perché obiettivamente dopo la vittoria della Tuscar che è stata una partita difficilissima contro una buona squadra e oggi che obiettivamente diciamo che anche il pari alla fine mi poteva anche star bene cioè avevo fatto un conto di quattro punti in due partite ne abbiamo fatti sei faccio i complimenti veramente a questi ragazzi che stanno interpretando partita dopo partita stanno facendo un campionato incredibile Paolo Ghirelli non avete rischiato praticamente niente avete portato a casa una gran bella vittoria importante No è stata una bella partita anche domenica a Rezzo è stata molto insomma contenuta bene a centrocampo in difesa e ora stiamo bene abbiamo ritrovato la forma migliore diciamo Infatti è la terza vittoria consecutiva confermate il primato in classifica Ma sì merito ai ragazzi all'allenatore ai ragazzi soprattutto perché stanno interpretando al meglio quello che il mister richiede si vede benissimo insomma in campo anche quello che vuole veramente l'allenatore con tenacia con grinta senza munizioni anche questo è importante è un gioco pulito per cui siamo molto contenti Sicuramente è bello vedere anche questo entusiasmo che sta prendendo sempre di più il paese Ma sì questo è un po' la bella cosa che sta succedendo adesso insomma c'è tantissimo entusiasmo noi ovviamente avere questi punti di vantaggio questo campionato dà entusiasmo però c'è anche qualcosa in più dal fatto che magari era un po' di tempo che non c'era il pallone non voglio dire il calcio ma il pallone in questo paese per cui abbiamo ritrovato un po' tanta gioia anche da persone che magari erano fuori in questo momento Paolo anche oggi vi avevi azzeccato il pronostico con il tuo pendolino assolutamente sì ora appena faccio la doccia lo metto in rete e vedrete che è assolutamente preso in pieno anche questa volta allora abbiamo sentito le parole di Del Vecchio e di Ghirelli insomma Alterini grande protagonista ma è tutta la capresana di essere protagonista perché credo tu eri presente che abbia dominato la partita sì e soprattutto oltre che che nel campo mi ha sorpreso veramente l'entusiasmo che si è venuto a creare in questo in questo paese dove il calcio mancava da tanto come ci ha detto anche Paolo nell'intervista veramente i tifosi scatenati con petardi striscioni e fumogeni quindi sicuramente un bellissimo ambiente e a proposito della partita è stata quindi la quarta vittoria consecutiva sicuramente Alterini ha fatto la differenza mi premeva anche sottolineare le prestazioni dei due centrocampisti centrali Manca e Fontana che hanno veramente disputato un ottimo un ottimo match e come ci ha detto Del Vecchio appunto si prepara questo match fondamentale che ci sarà domenica prossima contro il Salutio Salutio che rimane a meno sette punti dal Capresana dopo il successo ottenuto sul campo del Monsigliola al terzo posto c'è il Badia Rotti che ha battuto l'Union Team e Chimera Salutio dobbiamo ricordarla una gara in meno e come dicevi tu sarà prossimo avversario in questo scontro diretto del prossimo turno Salutio che è in casa è una macchina inarrestabile però insomma la Capresana fuori ha ottenuto otto vittorie su dieci partite quindi ci sono tutti i presupposti perché no per continuare questa striscia sì sicuramente io il Salutio l'ho visto fuori casa quando ha giocato a Monterchi contro l'Ercolana ed è veramente una bella squadra ma lo testimonia anche la posizione in classifica però per la Capresana era fondamentale arrivarci con i sette punti di vantaggio ora ci sarà una settimana intera per preparare al meglio questa gara ma il pendolino di Ghirelli non sbaglia un colpo che dirà domenica? eh non sbaglia mai quindi anche domenica sicuramente azzeccherà il risultato sarà merito del pendolino eh penso proprio di sì domenica è importante come detto anche per l'Ercolana che ha vinto in casa 4-0 contro il San Giovanni Arezzo il terzo risultato utile il secondo successo consecutivo in casa dove non in cassa gol tra l'altro da quattro partite l'ultimo gol subito il 14 dicembre sesto posto a quota 34 con sei vittori su dieci gare casalinghe e meno uno appunto dal quinto posto anche qui bicchiere più che pieno sì soprattutto mi preme ricordare che l'Ercolana è imbattuto in casa e quindi e nelle ultime due partite addirittura ha fatto otto gol e non ne ha subito nemmeno uno e quindi si prepara al meglio anche qui un'altra partita molto importante che è quella di domenica contro la Tuscar che probabilmente deciderà l'ultimo posto valevole per i playoff sì in questo caso dobbiamo dare qualche numero sperando che l'Ercolana possa diciamo così interrompere questa striscia perché non vince fuori casa dal 21 dicembre ed ha ottenuto soltanto due punti nelle ultime quattro trasferte quindi anche qui un grosso in bocca al lupo perché noi tifiamo sinceramente per tutte le nostre squadre insomma dalla Lega Prof in arrivare alla terza categoria alle amatoriali quindi un in bocca al lupo anche a Capresana ed Ercolana che nel prossimo turno si giocheranno una fetta importante di questo campionato e complimenti ad entrambe Alessio passo il microfono a te per la panoramica sulle calci amatoriali oggi abbiamo qualche minuto in più Partiamo come al solito dal campionato di eccellenza Gironeasi è giocata la diciannovesima giornata di campionato è stata una settimana nera per il Gragnano che prima ha perso nel recupero contro lo Spartak Bibiene nel match casalingo che è caduto sotto il colpo decisivo di De Luca e ha perso anche il match di sabato in trasferta contro l'Ajax 86 Arezzo con lo stesso punteggio di 1 a 0 la formazione di Gragnano rimane quindi ferma a quota 18 punti in classifica bene invece il Newell Boca che si conferma la principale inseguitrice dello Spartak Bibiene la formazione del Boca appunto ha vinto 2 a 1 nel derby contro il Barchiaroscuro le reti di Bragagna e Guidi hanno reso nulla quella di Carbonaro per il Newell Boca è la quinta vittoria consecutiva il sesto successo esterno stagionale e la formazione giallo-blu rimane a meno 2 dallo Spartak Bibiene con una partita però in meno per il Barchiaroscuro invece continua il periodo buio con l'ottava sconfitta consecutiva e qua la vittoria ma ancor mai da ben 11 giornate la formazione del Chiaroscuro rimane quindi ferma quota 14 punti a più 3 sulla zona retrocessione bene anche l'Asa Calcio che ritrova i due punti nel match casalingo contro l'Atletico Piazzetta un bel 3 a 0 firmato dalla doppietta di Mariotti e dal gol di Catacchini per l'Asa il quarto risultato utile consecutivo e poi Daniele ritrova una vittoria che mancava da 4 giornate sì ce n'era sicuramente bisogno perché questa è una squadra forte insomma che può lottare per i quartieri alti della classifica e anche attaccanti di valore perché insomma uno come Mariotti in questi campionati non è che ce ne sono poi così tanti quindi era un po' strana questa difficoltà da andare in gol e invece questa vittoria spazza via insomma tutti i dubbi e ripropone l'Asa come una delle squadre protagonisti di questo campionato infatti la formazione di Mr. Mearini si porta a quota 23 punti al quarto posto e si candida naturalmente per un posto nei playoff nel prossimo turno due saranno i recuperi infrasettimanali il 4 il 4 marzo alle ore 20.45 l'Asa ospiterà il Boca Strada Junior mentre il 3 alle ore 21 ci sarà la partita tra Chiasa e New Old Boca nel prossimo turno invece quelle gare del prossimo weekend New Old Boca Boca Strada Junior Spartak Bibiena Bar Chiaroscuro Gragnano Corsalone e Stella Azzurra Asa Calcio Anghiari scendiamo in prima divisione Gironea anche qua si è giocato un derby molto importante Banco Latino Lions Salleo finito con il risultato di 3 a 2 in favore dei padroni di casa che sono andati in gol due volte con Ascosi e con Gabrielli che hanno reso inutile la doppietta di Matteagi per il Banco Latino è la seconda vittoria interna consecutiva ed è anche il diciannovesimo risultato utile stagionale rimane dunque l'imbattibilità in campionato e rimane invariato il vantaggio in classifica sul Super Pop infatti il Banco ha quota 30 punti e gli inseguitori sono a quota 28 bene anche il Gricignano che vince sul campo del Badia Prataia per 2 a 1 con i golli trevinati e di Testerini su rigore per il Gricignano è il quarto risultato utile consecutivo e la formazione di mister Lucchetti si porta a quota 18 in attesa del recupero che giocherà l'11 marzo pareggio interno per il Berta Cospaia reti inviolate contro il Pop la formazione del Berta si porta così a quota 20 punti a meno tre dal terzo posto che vuole dire promozione nel prossimo turno ci sarà un altro derby quello tra Lions Salleo e Gricignano poi a seguire Ponte Buriano Banco Latino e Ceciliano Berta Cospaia rimaniamo in prima divisione ma ci spostiamo nel girone B dove la Fratres Monterchi trova la seconda vittoria consecutiva nel difficile campo dell'Arezzo United vittoria per 2 a 1 grazie alla doppietta di Principi David per la formazione di mister Rossi e anche il terzo risultato utile consecutivo in classifica comandano ancora i Drunken Lions a quota 30 punti inseguiti dalle gioste del top a quota 29 mentre il terzo posto si è occupato dall'Amaranto Pescaiola a quota 24 mentre la Fratres si insegue a quota 19 in una posizione tranquilla per quanto riguarda la retrocessione a più 9 e a meno 5 sui tre posti promozione Qual è l'obiettivo di questa Fratres? Seguro tra farci la domanda ti interrompo ma a questo punto penso che dato che la salvezza è quasi raggiunta perché non provare fino all'ultimo a raggiungere almeno il terzo posto anche perché i primi due ormai sono un bel po' staccati quindi ci proveremo fino alla fine Nel prossimo turno anche qua ci sarà un recupero infrasettimanale il 3 marzo alle ore 21 ci sarà Fratres Monterchi Papata Group mentre sabato si giocherà Ultramonte Fratres scendiamo in seconda divisione Girone A dove la Motile incappata in una brutta sconfitta casalinga 4 a 1 contro il Deportivo Capolona inutile la rete di acquisti Gabriele un buon pareggio invece quello ottenuto dalla Nuova Biturgia nel difficile campo del Marcena 2 a 2 i gol di Camilloni e Meoni qua resta in vetta la classifica il Deportivo Capoloni inseguito da Casentino e Falciano a quota 26 mentre la Motina rimane a 14 assieme al Win Europa e la Nuova Biturgia sale a 9 punti nel prossimo turno anche qua un derby tra Win Europa e Motina e segue anche Nuova Biturgia Fonterosa e allora grazie ad Alessio non ci siamo dimenticati delle amiche del Selcinar di calcio femminile che però al momento in cui stiamo registrando la trasmissione non hanno ancora disputato la loro partita che si giocherà martedì 3 marzo sul campo del Perugia la Grifo Perugia che è la squadra primavera del Perugia prima squadra che è con pagine fuori classifica giocate invece le altre due partite l'oldest Grifo ha battuto 2 a 0 il Santa Sabina il Foligno ha battuto in trasferta il Picchi San Giacomo per 3 a 0 Santa Sabina che sarà prossimo avversario del Sercinardi appuntamento allo stadio Nocchi di Selci domenica alle ore 12 siamo arrivati alla conclusione di questa ventunesima puntata di Valtiberina Calcio come sempre è visibile nella nostra sezione web tv all'interno del sito www.valtiberinainforma.it dal martedì fino alle partite del prossimo weekend comunque ricordo sempre che c'è la sezione in archivio in cui potete trovare anche le puntate precedenti il calcio come quando lo volete in una nuova dimensione io ringrazio Alessio Romanelli grazie a tutti voi per l'attenzione alla prossima ringrazio Cinzia Scatradi direttore responsabile Massimiliano Bruni per il montaggio l'appuntamento con Valtiberina Calcio alla prossima settimana e vi per l'attenzione e i a a a a Grazie a tutti.